Appuntamento con le previsioni del tempo su informazioni dell'area previsioni meteo della protezione civile della regione Campania. Bentrovati. Una struttura depressionaria permane sulla nostra penisola apportando ancora generali condizioni di instabilità al centro nord e localmente anche sulle regioni meridionali. Nei prossimi due giorni il campo barico tenderà a risalire ma saranno possibili isolati fenomeni soprattutto nella parte centrale della giornata. Previsioni per domani, martedì 4 settembre in Campania, nuvolosità in graduale intensificazione dalla mattina con possibili isolati rovesci soprattutto nella parte centrale della giornata e sulle zone interne. Uno sguardo ai venti che ispireranno dei boli occidentali con moderati rinforzi nella parte centrale della giornata mentre il mare si presenterà poco mosso o temporaneamente mosso. Concludiamo con le temperature che non subiranno variazioni significative mentre la visibilità tenderà a ridursi localmente sulle zone montuose. Con il meteo è tutto, grazie per averci seguito. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.